è una faccenda seria se non avrete un vostro candidato Roma non accetterà alcuna alleanza lo so bene ah un'altra cosa il nome del figlio del faraone lo sapete? si, mentuote sono tempi duri per il popolo egiziano c'è giunta notizia che il nostro faraone è morto il nostro esercito è allo sparaglio per questo ho convocato il giovane mentuote è un onore per me servire il mio milanio abbiamo un incarico per portarlo a terra sarà fatto è finito ora pagherai per tutti i tuoi crimini ah ah e pensi davvero di potermi fermare? non credo proprio questo è davvero uomini uccinetelo allarmi i banditi ci attaccano farò impossibile non so come ringraziarti va, ora come ringraziarti Grazie a tutti.